Giro di vite delle forze dell'ordine non solo in zona Arancitelli a Pescara dopo l'aggressione al giornalista Rai e alla sua truppa, con controlli e anche con la prevenzione. Ed è questa la parola chiave, secondo il questore Francesco Misiti, da attuare nei quartieri più a rischio. Sicuramente io parto da un principio, perché la prevenzione è alla base di tutto, ancora prima della repressione. Va da sé che parliamo di quartieri con un certo degrado sociale, quindi dove occorre un'opera di riqualificazione non indifferente. Va da sé che stiamo parlando di quartieri dove c'è una massa di occupazioni abusive, quindi anche lì si sta vedendo d'intesa con il Comune sulla base delle determinazioni che sono state assunte in serie di comitato di censire tutti gli abitanti degli appartamenti per vedere un attimino se sono aventi diritto o meno. È chiaro che, come in tutte le grandi città, grandi, medie, metropoli, parliamo di quartieri a un buon rischio, di quartieri degradati, dove c'è una maggiore incidenza di criminalità. Ma, come vedete, a prescindere dagli interventi massivi di questi giorni, l'attività di prevenzione su quei quartieri viene costantemente fatta, tant'è a dimostrazione che solo nel 2018 io, solo sul rancitello, ho predisposto 170 servizi. Tanti cittadini per bene che abitano in quei quartieri, molti hanno però paura a denunciare determinati episodi. Intanto il cittadino non deve avere paura a denunciare perché c'è lo Stato, ci sono le forze di polizia che funzionano e quindi qualissiasi situazione di illegalità deve, anche per una questione di dovere morale e di onestà intellettuale, deve essere denunciata. Come ho già detto, Rangitelli non è solo covodi pregiudicati, Rangitelli è anche un quartiere dove abitano gente per bene. E io mi è rimasta impressa a me la rissa dell'agosto che gli stessi titolari del bar hanno denunciato i parenti che erano stati coloro che avevano aizzato la rissa. Ogni città ha le sue periferie. E' chiaro che l'evento dell'aggressione al giornalista è un fatto di per sé deprecabile, sicuramente censurabile e che va punito nella dovuta misura. Sicuramente è stata una sorta di detonatore che ha acceso un attimino i riflettori, ma questo non significa che sono quartieri che vengono abbandonati, assolutamente. In questo periodo c'è una maggiore incidenza di attività di prevenzione e di repressione. C'è anche l'appello non solo al Comune, ma all'Ater, affinché gli abusivi vengano però sfrattati. Con l'Ater è un discorso di problema di finanziamenti, perché loro sostengono di non avere le disponibilità di somme per consentire lo sgombero, perché uno sgombero comporta poi tutta una serie di attività collaterali, quali può essere il trasporto delle vassalizie, quali può essere la muratura. Abbiamo preso atto in sede di comitato della buona volontà dell'Ater di provvedere a stetto giro a reperire i fondi necessari, perché ovviamente è una situazione che va in un modo o nell'altro va definita.